Una tradizione intrisa nel cuore e nell'animo fuscaldese e calabrese, quello del Festival degli Alici, l'evento di Nicchia in programma dal 29 al 31 luglio a Fuscaldo, presentato nella Sala degli Specchi del Palazzo della provincia di Cosenza. Un tesoro identificativo per il territorio che riporta l'antica cultura marinara caratteristica di Fuscaldo, presentato dalla nuova amministrazione. La Calabria ma soprattutto la provincia di Cosenza nel corso dell'estate offre davvero tante iniziative molto legate al territorio, tante che ormai storicizzate si presentano ogni anno. Fra questo è il Festival degli Alici che proprio con il cuore della nostra provincia sul Martirreno a Fuscaldo si ripresenta quest'anno per festeggiare il decimo anno. La provincia di Cosenza ha voluto patrocinare l'iniziativa anche perché il suo ruolo istituzionale le consente tra l'altro di dare visibilità ed importanza a tutte le iniziative che sul territorio sono presenti. Si parla in questo caso del Festival degli Alici e di Fuscaldo ma in realtà la provincia nella sua interezza offre davvero tanti eventi che riguardano le zone balneari, le zone costiere ma anche l'entroterra. Tante attività legate molto all'identità territoriale, all'enogastronomia, alla cultura, ai balli, le danze, la musica e l'arte in genere. Quando si parla di Alici si parla di Fuscaldo, si parla di tradizione, si parla di storia, si parla di cultura e si parla di identità. Le Alici da sempre rappresentano uno dei prodotti tipici della nostra zona, del nostro mare e per Cosenza e tutto l'Interland, le Alici di Fuscaldo da sempre rappresentano un marchio che è sinonimo di garanzia e di qualità soprattutto. Quindi il Festival delle Alici serve soprattutto per tramandare questa nostra tradizione, questa nostra cultura e per far conoscere questo prodotto tipico al di là di quelli che sono i convini locali e regionali. A sottolineare l'importanza della manifestazione marinara è stato l'intervento dell'assessore all'agricoltura Gianluca Gallo, facendo luce sui fattori strategici dell'evento. L'Europa ci dice che in futuro diminuiranno le giornate di pesca ed è chiaro che noi dobbiamo chiedere alla nostra marineria innanzitutto di essere più moderna perché bisogna migliorare dal punto di vista tecnologico e avanzare sotto ogni punto di vista ma bisogna anche cercare di diversificare. Quindi il racconto di una storia accanto alla giornata di pesca, il poter utilizzare anche l'ITTurismo penso che possa essere uno strumento per affiancare a chi ha fatto della pesca la propria attività principale altre attività che possano raccontare una Calabria che è una Calabria fatta anche di pescatori che hanno segnato una tradizione che noi dobbiamo rivendicare e che dobbiamo orgogliosamente riprendere. Mare, tradizione, buon cibo è la triade che caratterizzerà ancora una volta la bellezza della Calabria in onore del prezioso simbolo che famiglie e pescatori tramandano da generazioni.